Si ricomincia con entusiasmo, si ricomincia con la gente che aveva lasciato conoscendo... Si ricomincia con l'entusiasmo di sempre. Grazie, grazie a tutti, buonasera. Io mi unisco a quello che è stato detto ultimamente nel fare complimenti ad Alberto De Rossi per questa vittoria perché mi hanno fatto fare la foto, ma il vero protagonista è stato lui di questi ragazzi che hanno fatto questo grandissimo risultato e io gli porgo il mio attestato di stima al mio vicino di banco Alberto De Rossi perché quando ho bisogno dei ragazzi della primavera, lui è sempre disponibile, è sempre gentile, ci mette sempre nelle condizioni di poter lavorare sempre al meglio. Condizioni che abbiamo trovato anche qui in Val Rendena perché siamo stati subito avvolti dal modo di comportarsi di questi cittadini, di questi luoghi. E poi i nostri tifosi che macinano chilometri che superano gli stati. Ho la squadra particolarmente disponibile poche volte nella mia breve carriera. Mi è successo di avere tutti a disposizione quelli che erano possibili perché naturalmente i reduci dell'Europeo gli vanno concessi quei giorni poi di vacanza che gli permettono di ritornare freschi perché giocare a questi livelli è sicuramente uno stress fisico, uno stress mentale, un lavoro intenso. Anche se da fuori non sembra così però loro fanno le loro fatiche, ben remunerati ma fanno le loro fatiche anche loro.